Il 16 febbraio, poco dopo le 12 ore italiana, il servizio penitenziario federale russo annuncia la morte dell'attivista politico e dissidente più famoso del paese, Alexei Navalny. Dopo essere stato arrestato il 17 gennaio 2021, il leader dell'opposizione russa stava scontando una condanna a 19 anni di regime speciale nella colonia penale di Harp, nella Russia Antica, isolamento che comunque non era riuscito a soffocare l'attivismo e il fervore politico di Navalny. Eppure lo scorso venerdì, mentre stava facendo una passeggiata in un'ora d'aria, Navalny avrebbe accusato un malore e perso conoscenza, venendo a mancare di lì a poco. Il giorno dopo, le autorità russe hanno stabilito la causa del decesso, una fumosa sindrome da morte improvvisa, sostanzialmente un arresto cardiaco di cui però non si conoscono bene le cause. La famiglia non ha tuttora ricevuto la salma di Navalny e nonostante numerosi appelli internazionali per condurre esami indipendenti, è improbabile che si riuscirà mai a fare chiarezza sulle effettive cause della morte. Quello che è certo è che Navalny era sottoposto a condizioni durissime, che certo non potevano che debilitare ulteriormente una salute già compromessa dall'avvelenamento da Novichok nel 2020. Con la morte di Navalny, la società civile russa ha perso colui che più di tutti si era opposto a Vladimir Putin. Fin dalla stagione di protesta del 2011-2012, quando era salito alla ribalta denunciando la corruzione del Cremlino e definendo il presidente russo e il suo partito ladri e imbroglioni. Per capire come la morte di Navalny sia stata raccontata in Russia e all'estero e approfondire la figura del dissidente, abbiamo passato in rassegna i giornali russi e fatto anche qualche domanda ad Anna Zafesova, giornalista e autrice del libro Navalny contro Putin. Bentornati a Dispacci della Russia, la rassegna periodica che spiega come i giornali russi raccontano l'attualità. Nonostante si tenda a pensare che la notizia della morte di Navalny sia stata trascurata in Russia. Quel che risulta dai giornali è che non è proprio così. Tutte le diverse tipologie di giornali russi, anche quelli più vicini al Cremlino, hanno infatti parlato in maniera diversa di questo evento, ponendo certamente l'enfasi su alcuni aspetti della vicenda piuttosto che su altri. Partendo dai media di Stato, sia TASS che RIA Novasti hanno tempestivamente comunicato della morte dell'oppositore russo, informando al pubblico anche dei tentativi di rianimazione, che sarebbero durati per oltre mezz'ora. Tempestivamente sono state riportate anche le prime dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitry Pieskov, il quale ha assicurato che il presidente Putin fosse stato subito informato dell'accaduto. Alcune notizie parlano invece dello stato di salute di Navalny, che a detta di alcune autorità regionali non aveva dato segnali di malessere, neppure il giorno prima dell'eccesso, quando aveva partecipato in collegamento video a una seduta del Tribunale regionale di Vladimir. A parte altre notizie di contorno, non sorprende vedere che molti articoli inseriscono la morte del dissidente nella lotta tra Russia e Occidente. Menzionando alcuni esempi, sono riportate le parole della vicepresidente americana Kamala Harris, che ha subito etichettato Mosca come responsabile della morte di Navalny, o un comunicato dei ministri degli esteri del G7 che sabato, a margine della Conferenza per la Sicurezza di Monaco, hanno chiesto alle autorità russe di chiarire pienamente le circostanze della morte di Navalny. Ovviamente affare da contraltare troviamo molte dichiarazioni proprio delle autorità russe. Già venerdì la portavoce degli esteri, Maria Zakharova, ha definito le immediate accuse occidentali, arrivate prima di qualsiasi esame, forense o autopsia, una forma di autodenuncia. Altre notizie accusano l'Occidente di voler sfruttare la morte di Navalny per lanciare nuove sanzioni contro il Cremlino e che dunque Washington e Bruxelles sarebbero in qualche modo coinvolte nell'accaduto. Vengono riportate anche le reazioni da alcuni paesi amici, come l'India, che ha assicurato che la morte di Navalny non inciderà sull'amicizia e alleanza con Mosca, o la Cina, con un portavoce degli esteri che ha definito la questione un affare interno alla Russia, rifiutandosi dunque di commentare. Infine sono state pubblicate anche alcune dichiarazioni della moglie del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, la quale, alla luce della situazione del marito, ha accusato l'Occidente di ipocrisia per le uscite a sostegno di Navalny. Grazie Anna, benvenuta. Partiamo con una domanda generale. In che modo la morte di Navalny può influenzare l'opposizione in Russia e più in generale la vita politica del paese, a un mese più o meno dalle prossime elezioni? Le elezioni di suo non c'entrano niente perché non essendo elezioni alla fine sono rilevanti, si tratta di un puro rituale che Putin organizza per confermare la propria… non possiamo nemmeno parlare di legittimità perché tanto la legittimità di Vladimir Putin ormai definitivamente non viene dal consenso, ma viene dal monopolio della forza. Come influenza? Influenza in una maniera molto negativa, l'abbiamo anche visto dalle reazioni disperate, disperate nel senso di assenza e di speranza di tantissime persone perché Navalny non era soltanto un leader, era un simbolo ed era anche una delle poche persone che riusciva in Russia, contrariamente a una vecchia tradizione di abbracciare la sofferenza e il vittimismo, era invece un uomo fabbile, una persona che riusciva o almeno provava in ogni circostanza a dire e adesso che cosa facciamo? Infatti quello che vediamo oggi anche a livello di social, anche a livello di dichiarazioni, di media laddove ci sono, ancora i media indipendenti ma anche di conversazioni private è una profonda sofferenza, una grande rabbia e una grande disperazione con un tono del tipo un giorno la Russia sarà libera, come dire, non vivremo abbastanza per vederlo e non saremo certo noi a farlo. Ecco, e questa è la vera morte di Alexei Navalny perché la novità di Navalny e il motivo per il quale lui è diventato così popolare, così un simbolo, era proprio che cercava di rompere questo quasi autocompiacimento nella sofferenza molto tipico di una certa cultura russa per provare a formulare invece un'azione che adesso non si capisce veramente quale potrebbe essere. Come da copione molte notizie apparse sui media statali sono riproposte anche sui media semi-indipendenti. Qui tuttavia risaltano maggiormente le notizie che menzionano anche quanto è successo in Russia e all'estero dopo la morte di Navalny, inteso come manifestazioni e corte in sua memoria. Erbeca ad esempio ha riportato una notizia del servizio russo della BBC, secondo cui già venerdì sera si erano tenute manifestazioni in numerose capitali europee, ma anche a Mosca e San Pietroburgo, e a posteriore sarebbero circa 400 le persone ad essere state arrestate in Russia durante queste manifestazioni non autorizzate. È poi interessante vedere che, oltre alle già citate dichiarazioni antagonistiche contro l'Occidente, su Kamiassant hanno trovato spazio anche le dichiarazioni del candidato alle presidenziali russe del partito Novogliudi, Vladislav Tavankov, che ha definito una tragedia il fatto che persone giovani e forti continuano a morire nelle prigioni russe. Anna, si è parlato spesso delle ombre di Navalny, alcune sue dichiarazioni nazionaliste del passato, la sua posizione controversa sulla Crimea, tutte cose che negli anni hanno reso il dissidente in viso nei paesi del cosiddetto vicinato russo, come Georgia e Ucraina. Come è stata accolta la morte di Navalny nei paesi vicini? Non so che francamente che reazione possono aver avuto nei paesi dell'Asia centrale. I qui immigrati Navalny aveva chiesto di limitare e di regolarizzare degli spot assolutamente disgustosi di 15 anni fa, che da allora non ha mai più ripetuto per quanto riguarda i suoi attacchi alla Georgia del 2008, ha chiesto ripetutamente scusa. In realtà ovviamente quello che ci interessa e quello che rileva è la reazione alla sua morte in Ucraina, perché quello è importante. In Ucraina l'opinione pubblica diffusa è rimasta o indifferente o anche molto ostile. Il commento di molti è stato che è morto un altro russo, meglio così. Questo dipende da due fattori. Il primo è che gli ucraini non riescono a perdonare a Navalny la sua frase del 2015, quando ha una domanda in una delle rare interviste alla radio, perché notoriamente Navalny la televisione russa non poteva avere accesso, alla domanda di cosa avrebbe fatto lui come presidente della Crimea ha detto che avrebbe lasciato decidere agli abitanti della Crimea perché la Crimea non è un panino che si passa da una mano all'altra. Siccome giustamente per l'Ucraina esiste soltanto una risposta, la Crimea è Ucraina e deve tornare all'Ucraina, Navalny poi aveva circostanziato questa risposta che oltretutto in Russia era in pubblico l'unica possibile, perché Russia sostenere che la Crimea non è Russia equivale a un reato penale. Ma questi sono ovviamente dettagli. Quindi per gli ucraini c'è essenzialmente questo, però c'è qualcosa che è sempre da capire. Noi da fuori riteniamo che la Russia, l'Ucraina, la Belarus, sono tutti la stessa cosa, sono tutti l'Unione Sovietica, il vicino estero russo e tutti si seguono a vicenda. Io ho avuto modo di sperimentare personalmente diverse volte a Kiev che gli ucraini, anche gli intellettuali ucraini, anche persone che fanno politica in Ucraina spesso volentieri non hanno se un'idea molto generale di quello che è il dibattito russo, cioè non sanno chi è Navalny, ne vogliono saperlo, così come spesso non sanno chi sono gli opinion maker o gli artisti di grido russi, perché l'Ucraina è un altro paese con un'altra vita politica estremamente intensa, molto più ricca di quella russa, con un altro mondo dello spettacolo, con un altro cinema, con un altro tutto. Quindi per gli ucraini spesso la reazione è abbastanza automatica. Molti ucraini non sanno che Navalny aveva preso posizioni contro la guerra, non sanno che Navalny fin dall'inizio aveva appoggiato per esempio la rivoluzione sul Maidan, della quale proprio in questi giorni ci stiamo un po' dimenticando l'anniversario, sono dieci anni dalla rivoluzione della dignità e dall'annessione della Crimea, è il cui anniversario cade proprio in questi giorni. Quello che è importante è che invece quello di Mirzelensky e la classe dirigente ucraina hanno perfettamente colto l'importanza negativa della morte, dell'omicidio di Alexei Navalny, infatti ne ha parlato Zelensky, ne hanno parlato altri suoi collaboratori, dicendo è stato ucciso da Putin. Non si sono spesi molto in apprezzamenti e elogi a Navalny, anche perché sono ovviamente perfettamente consapevoli che in questo momento l'opinione pubblica ucraina fa molta fatica a credere all'esistenza di un russo buono e sappiamo perché, però ovviamente hanno perfettamente capito che è una pessima notizia per l'Ucraina perché è evidente che Navalny nel caso fosse diventato un leader russo avrebbe dovuto tenere conto anche dei nazionalisti e anche degli umori della maggioranza silenziosa russa, però è altrettanto evidente che era contro la guerra e che la guerra l'avrebbe fatta finire, tra l'altro ricordo che Navalny era per metà ucraino. E soprattutto la parte più negativa che è stata perfettamente colta, anche quella dalle leadership dell'ex Unione Sovietica, soprattutto quella ucraina, che è un altro segnale come quello del 24 febbraio del 2022. Putin non conosce linee rose, Putin andrà fino in fondo, non si ferma se non viene fermato, perché se ha deciso, dopo averlo torturato sotto gli occhi di tutto il mondo per tre anni, di uccidere un uomo che è il premio sacro del Parlamento europeo, questa tra l'altro ha anche una risposta a chi dice che era un nazionalista e non un democratico, dubito che il Parlamento europeo l'avrebbe insegnato di questa onorificenza. Se Putin ha ucciso e adesso in un ultimo sfregio non restituisce nemmeno il corpo alla famiglia di un uomo che era il sorvegliato speciale di tutte le cancellerie europee, occidentali, delle organizzazioni internazionali, eccetera, vuol dire che è pronto veramente a tutto. E questa è una brutta notizia per tutti, per l'Asia centrale, per il Kazakhstan, per la Belarus e soprattutto per l'Ucraina. Se sui media di Stato il nome di Navalny veniva talvolta accompagnato da un asterisco, che ne sottolineava la classificazione come terrorista o estremista, sui media indipendenti il quadro è totalmente differente. Sia su Umi ed USA che su Novaya Gazeta in Europa le notizie su Navalny sono moltissime e spesso viene rimarcata l'idea che il dissidente non sia semplicemente venuto a mancare, ma che sia stato ucciso dal regime russo. Non è un caso che venga menzionato il presidente ucraino Zelensky, che ha etichettato come evidente il fatto che Navalny sia stato ucciso da Putin. In questa carrellata di dichiarazioni Medusa ha poi riportato le parole di alcuni politici russi, che hanno definito la morte di Navalny una circostanza sfortunata, qualcosa che può succedere. Sempre su Medusa ci sono poi notizie che parlano del futuro dell'opposizione russa dopo la morte di Navalny, o invitano i lettori a esprimere il proprio cordoglio inviando messaggi e pensieri personali. Ovviamente viene dato ampio spazio alla storia del dissidente, sia con articoli che consistono di fotografie dei momenti più importanti della sua vita e della sua scesa politica, sia con editoriali che già nel titolo definiscono la sua morte la morte di un eroe. A parte ciò troviamo testimonianze delle manifestazioni in sua memoria in giro per il mondo, con Medusa che in un articolo ha addirittura compilato una lista dei cortei organizzati in più di 25 paesi. O la notizia della promozione del vice direttore del servizio penitenziario federale, responsabile del trattamento riservato a Navalny, promozione ottenuta solo tre giorni dopo la morte del dissidente. Tra le moltissime citazioni di Navalny utilizzate nelle notizie, quella forse più forte è riportata sia da Medusa e da Novoia Gazeta e proviene dal film Navalny di Daniela Roher, premiato tra l'altro con un Oscar nel 2023. Nel film interrogato sull'eventualità di essere assassinato, Navalny dice che la sua morte indicherebbe che l'opposizione russa è straordinariamente forte e che proprio per tale motivo questa non si dovrebbe arrendere. Una raccomandazione che può essere stata raccolta dalla moglie Julia, che qualche giorno fa ha dichiarato che continuerà, quanto iniziato dal marito. Anna, Mattia ci ha appena parlato di Julia Navalny, che ha detto che continuerà al lavoro di Alexei. Quali iniziative pensi che vorrà e potrà mettere in atto e quale probabilità di successo pensi che avrà? Qualcosa l'abbiamo già capito dalle sue prime mosse, come quella di rivolgersi ai leader europei e di proporre di aiutare i russi dissidenti, sia quelli che scappano dalla Russia, ricordo che è più di due anni ormai che stiamo parlando di come si potrebbe lavorare con i russi esoli e alla fine non si riesce a fare niente né a livello di assistenza puramente burocratica, di permessi, eccetera, né a livello di creare un movimento, devo dire per colpa anche dei medesimi russi buoni che sono estremamente atomizzati e in buona parte non hanno nessuna voglia di impegnarsi in una lotta politica che possa mettere a rischio loro e le loro famiglie che rimangono in Russia. Un'altra proposta di Julia è stata quella all'Occidente di non riconoscere le elezioni di Putin, che in realtà anche quello non cambia niente, è evidente che Putin resta, però anche quello è un simbolo, anche quello è un messaggio anche a livello delle opinioni pubbliche occidentali, è qualcosa che è già stato fatto con Alexander Lukashenko in Belarus diverse volte, Lukashenko ovviamente resta lì, però comunque è una mossa, è una mossa anche rispetto a chi dentro le società, dentro la politica occidentale dice che bisogna trattare con Putin, per dire invece che con Putin non si può trattare perché Putin non è un politico magari diverso, Putin è un dittatore di un regime criminale. Questo per quanto riguarda l'azione dell'Occidente, quello che si può fare in Russia, fraccamente oggi gli spazi politici di una nazione politica russa sono talmente risicati che fraccamente finché non si comincia a parlare di un'attività di qualche tipo diciamo clandestino, gli spazi per un'azione politica non violenta e civile che si svolge nell'ambito della legge sono esistenti, la piazza è impossibile, abbiamo visto i russi venire arrestati anche solo per aver deposto dei fiori a dei monumenti che in qualche modo potevano ricordare Navalny, quindi senza nemmeno pronunciare il suo nome, senza nemmeno dire che questi fiori erano per Navalny abbiamo visto decine di condanne anche solo per post su Facebook, ci sono migliaia di detenuti e riconosciuti come prigionieri politici e ce ne saranno sicuramente tanti altri che non sono stati nemmeno raggiunti dai riflettori delle organizzazioni, per i diritti umani delle organizzazioni internazionali, le elezioni appunto sono quella cosa che vediamo, quindi in questo momento francamente non vedo molti spazi per un'azione politica legale e non violenta, vedremo se Julian Navalny e i suoi sostenitori e l'opposizione russa in senso più ampio che si riconosce, che credo riconosca abbastanza la sua leadership, riusciranno a inventarsi qualcosa, per il momento credo che si tratti quasi più di formulare un'opposizione morale che di formulare invece un programma d'azione. Su Telegram è interessante vedere le due facce della medaglia, intese come i canali pro e contro il Cremlino. Per i primi vale sempre la pena passare da Vladimir Salaviov che a seguito dell'accaduto ha pubblicato moltissimi messaggi. Sul suo canale troviamo pubblicati messaggi che passano in rassegna alle reazioni dell'Occidente, o contenuti che sostanzialmente sottolineano che Putin non aveva nessuna vera motivazione per uccidere Navalny, come professato in un video ripostato di Alex Jones, un popolare sostenitore di varie teorie del complotto e dell'estrema destra americana. Interessante poi vedere i diversi messaggi indirizzati proprio a Iulia Navalny, accusata da Salaviov di essere un'ipocrita, visto che, a suo dire, nonostante non le fosse stato vietato, questa si sarebbe recata ben poche volte a far visita al marito in carcere, preferendo invece viaggiare per l'Europa e gli Stati Uniti in vestiti sgraggianti. Sul lato opposto al Cremlino, invece, abbiamo dato un'occhiata al canale di Mikhail Khodorkovsky, ex magnate russo del petrolo in esilio e noto oppositore di Putin. A parte numerosi messaggi sulle responsabilità del Cremlino nel giorno e nei giorni seguenti alla morte di Navalny, Khodorkovsky ha invitato tutti i cittadini russi a recarsi alle urne il 17 marzo, quando saranno chiamati a eleggere il prossimo presidente russo. Solo che, sulla scheda elettorale, come segno di protesta, invece di indicare il nome di uno dei candidati, dovranno scrivere proprio Alexei Navalny. Un'ultima domanda riguarda la copertura mediatica italiana della morte di Navalny. Noi abbiamo affrontato come i giornali russi hanno raccontato questa vicenda, ma parlando invece della copertura mediatica del nostro paese, cosa ti sembra che sia mancato o che non sia emerso abbastanza? La copertura mediatica italiana purtroppo pecca sempre innanzitutto a monte della stessa cosa. Ci si occupa poco di politica internazionale, ci si occupa pochissimo di Europa dell'Est, non sono molte le persone dentro i giornali, dentro le televisioni, che banalmente conoscono anche le lingue, che hanno seguito questa vicenda prima ed è una vicenda lunga e complessa. Quindi io in questi giorni ovviamente ho parlato con tantissime redazioni di televisioni, di giornali, di siti, di radio, che con alcuni di questi colleghi lavoriamo da anni, seguiamo da anni appunto le vicende ucraine e russe, conosciamo i personaggi, abbiamo provato a raccontarli in tanti modi. Altri scoprono che Navalny è esistito adesso, quindi scoprono anche che è una grande storia, che è una storia che è drammatica, tragica, che è romantica, perché c'è anche la sua vicenda umana, la vicenda umana di sua moglie Giulia, che è un grande dei film, oltretutto quello di Navalny, infatti non è un caso che c'è stato il documentario dedicato a Navalny di Daniel Royer, che è stato l'anno scorso premiato agli Oscar, però sono tutte cose che in Italia passano sempre un po' sottofondo rispetto a tanti altri paesi, perché l'Italia è sempre più, diciamo, il panorama mediatico italiano è sempre molto concentrato su se stesso. Io ieri ho partecipato allo streaming di una grande testata italiana, dove si è parlato molto più delle dodici schedati dalla polizia di Milano, mentre deponevano i fiori per Navalny nel giardino Politovskia di Milano, che di Navalny stesso e di quello che questa morte significa, perché c'è questa abitudine sempre di piegare il dibattito su personaggi e polemiche interne. Dopodiché c'è anche una enorme facilità a prendere le cose per buone senza verificarle. Anche qua ho visto e sentito da tantissimi colleghi, anche molto bravi, anche molto preparati, a poter ripetere che Navalny non era un democratico. Alla domanda come fate a saperlo? La risposta era si dice. Che è molto curioso, considerato che nessun politico è stato più documentato di Navalny, perché Navalny essendo stato quel maestro della rete, tutto quello che Navalny ha fatto, inclusi gli orrendi spot contro gli immigrati di 15 anni fa, è tutto online, sul suo sito, sul suo blog, sui suoi social, sui suoi Twitter, sul suo YouTube, quasi tutto è sottotitolato in inglese. Si può andare a vedere che era un uomo che da anni diceva che il suo obiettivo è che la Russia diventasse un paese europeo. Però questa è una cosa che, per esempio, non è praticamente mai uscita nei medi italiani, forse perché, visto dall'Europa, un paese europeo non suona come uno slogan particolarmente chiaro. Visto da un paese autoritario fuori dall'Europa è molto chiaro che cosa si attende per l'Europa ed è rivoluzionario, come è stato rivoluzionario dieci anni fa in Ucraina, sul Maidan, quando si diceva che vogliamo essere Europa e tutti gli ucraini sapevano benissimo cosa significava questo ideale per il quale erano pronti a morire. Noi da dentro l'Europa spesso, anche perché spesso siamo abituati a sentire e menzionare l'Europa nell'ambito di una retorica molto altisonante ma tutto sommato priva di certe volte di anima, non riusciamo ad accorrerci. Quindi quello che è mancato forse è appunto la capacità di capire, di mettersi. Dall'altra parte, sugli aspetti positivi, indubbiamente la manifestazione che ha coinvolto tutte le forze politiche è stato qualcosa di unico. Infatti vedevo oggi che per esempio la manifestazione al Campidoglio è stata ripresa come notizia principale rispetto ad altre manifestazioni all'estero, anche dagli stessi social media del Movimento di Navalny e da altre testate internazionali, non solo ovviamente per la spettacolare scenografia, ma perché ha colpito questa mobilitazione che non è stata, a differenza di tante altre manifestazioni a Berlino, a Londra, essenzialmente di russi, di esoli russi, ma è stata una manifestazione invece di italiani, di forze politiche italiane, alle quali hanno aderito anche forze politiche notoriamente e dichiaratamente di simpatie pro russe. Quindi anche qua, tornando alla prima domanda su quello che si può fare, su quello che possiamo fare noi, è estremamente importante che questo passo del regime putiniano ha fatto capire a molti esponenti politici in occidente che bisogna allontanarsi, dissociarsi dal regime putiniano, magari se non altro a parole perché comunque l'opinione pubblica, l'elettorato di queste forze politiche magari può simpatizzare a Putin per una serie di motivi, ma non può simpatizzare giustamente nei confronti di un assassino e questo è qualcosa di estremamente importante. Grazie Anna per essere stata ancora una volta con noi e grazie a tutte e tutti per averci seguito. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna.